Giaele e Antonino Il conduttore ha invitato la ragazza a lasciare la casa se la sua priorità è salvare il suo matrimonio. Nonostante sia parti quasi tutti i giorni con Antonino, Giaele continua a dirsi convinta dei propri sentimenti nei confronti di Brad, l'uomo che è sposato pochi mesi fa. Alla fine del Daitime del GF VIP del 3 novembre, Alfonso Signorini ha voluto indagare sulla crisi che De Dona sta vivendo a causa delle scarse informazioni che le arrivano dall'esterno. La concorrente ha confermato di essere preoccupata per il suo matrimonio e che vorrebbe sapere qualcosa in più su quello che sta facendo la sua dolce metà dall'altra parte del mondo. Il presentatore delle reality non ha accontentato la donna, anzi è rimasto sul vago parlandole dello strano rapporto che sta costruendo con Spinalbese all'interno della casa di Cinecittà. Questi giorni sono stati terribili. Sono preoccupata per la situazione di mio marito. Ha detto Giaele all'inizio del collegamento con Alfonso su Canale 5. La protagonista del GF VIP 7 ha riaggiunto che spera che le arrivi qualche notizia di Brad durante la diretta del 3 novembre. E ha chiesto la complicità del presentatore. Nel sentire De Donà parlare esclusivamente del suo matrimonio, signorini non è riuscito a trattenersi dal chiederle, e se lui non viene da te. L'influencer si è detta pronta a mollare tutto per amore del suo consorte, ma il conduttore delle reality non ne ha creduto tanto e la punzecchiata dicendo, se ti interessa tanto di tuo marito. Puoi fare le valigie e uscire dalla casa. Giaele è rimasta spezzata dalla frecciatina di Alfonso, ma non ha battuto ciglio e ha replicato, se non verrà a lui a parlarmi, sarò io ad andare da lui. Nonostante le frecciatine di Alfonso, Giaele sarà una protagonista assoluta della quattordicesima puntata del GF VIP. La ragazza è al centro dell'attenzione per il legame che ha instaurato con Antonino nelle ultime settimane. Dopo essersi stuzzicati a distanza per un periodo, i due concorrenti hanno deciso di ritagliarsi vari momenti di intimità sotto le coperte. Sia Dedonac e Spinalvese raccontano che tra loro ci sarebbero state solo coccole e grattini. Ma la maggior parte degli spettatori non crede a questa versione dei fatti. Signorini è pronto a indagare su questa storia aggiungendo particolari inediti su quello che sta combinando Brad. Il marito della Vippona, da quando lei si è avvicinata ad un altro uomo. Tra le altre tematiche della serata, spicca sicuramente l'ingresso nella casa di sei nuovi inquilini, torno a Luca Onestini. Mentre debuttano nel cast delle reality Edoardo Tavassi, Micolin Corvaia, Orana Marzoli, Luciano Punzo e Sara Altobello. Uno tra Pamela Prati, Carolina Marconi, Giorgio Ciupilano e Patrizia Rossetti, invece. Questa sera sarà eliminato. A decidere del destino dei quattro concorrenti al televoto. Sarà il pubblico con preferenze online. Spazio anche al rapporto relazione tra Antonella ed Edoardo, che a partire dalla diretta del 3 novembre potrebbe essere messo in crisi dalla New Entry Micola, ex fiamma di Donna Maria. Grazie a tutti.